Ehi, vogliamo darci dentro? Vediamo chi tra noi è davvero obsoleto! Ehi, vogliamo darci dentro! 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 Allora è vero che la storia si ripete! Di nuovo, Enjin non è riuscito a sconfiggerti! Cosa pagherai per questo affronta? Alla mia povera testa... Non sono molto in forma ultimamente... La fine è vicina! La fine è vicina! Ancora cinque cristalli e manderai a monte il mio piano... Oh, forse... Oh, forse...